Bella Gazzettari, ben ritrovati con un nuovo video qui dalla Gazzetta MMA. Allora, di che cosa parliamo oggi? Come avete visto dal titolo, ovvero Dana White Privilege, il buon vecchio Paddy Pimble, la sua vittoria di sabato scorso, che è arrivata contro Gordon, un incontro, diciamo, molto sul filo del rasoio, ma ci arriviamo più tardi. E poi vorrei fare anche un veloce paragone tra lui e la situazione di Sugar Sean O'Malley. Prima di cominciare, però, ragazzi, io vi ricordo, come sempre, spolliciate per supportare il mio lavoro, non vi costa davvero niente. Iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti, attivando la campanella. Partiamo dall'incontro. Che incontro è stato? Tre round, molto sul filo del rasoio. Io, personalmente, alla fine dell'incontro mi sentivo di dare la vittoria a Gordon e non a Paddy Pimble. Sono stato abbastanza sorpreso una volta che ho visto il risultato, ma sono stato ancora più sorpreso di sentire l'intervista di Joe Rogan. Pessima. E mi dispiace perché Joe è una persona che io apprezzo davvero tanto. Mi seguo tutti sui podcast. Intervista davvero sbagliata. Ai pari un personaggio che aveva fatto un incontro quantomeno dubbio sul risultato, per non dire di più. E poi ancora di più le cose che ha detto nella post-conference, dopo che già prima dell'incontro aveva gettato merda calda sulla testa di Ariel Elwani, aveva offerso Tupuria. Insomma, era andato un po' troppo oltre dal mio punto di vista. E quello è il punto, ragazzi, perché te puoi andare oltre, cioè non potresti, ma poi alla fine puoi. Però un conto è andare oltre e poi i risultati seguono le parole. Un conto è andare oltre e poi vedere un match di basso livello, ragazzi. Parliamoci chiaramente, perché, ok, il risultato è abbastanza equilibrato, poteva finire a uno e all'altro. Io l'avrei dato a gordo, sinceramente. Però, ragazzi, se un incontro del genere me lo fai contro un top 10, ti veniamo a raccogliere col cucchiaio in a bordo ring. E bisogna essere onesti su questo. Un Paddy Pimble, che poi tra l'altro mi sembra anche di non... che non stia facendo proprio sti grandi progressi. me lo mettono contro atleti neanche rincati, contro buoni atleti, ma niente di che, e ancora ancora sopravvivi, e ancora ancora ti porti a casa gli incontri, l'hype fa la sua parte, eccetera, eccetera. Ti mettono davanti davvero un top 10 tosto della division e lo andiamo a raccogliere col cucchiaino, se le performance sono quelle che ci ha regalato l'altra sera. Perché anche quando le performance erano state buone, c'erano comunque dei punti carenti, evidenti, nel suo game plan. Quindi se già con un atleta non rincato l'incontro finisce così e così e già non se lo sarebbe dovuto portare a casa, ma su quello ci arrivo dopo, se vai a combattere con la gente veramente forte, con un top 15, con un top 10, ti veniamo a raccogliere col cucchiaino. Ma questa è un'altra parentesi. L'incontro, vi ripeto, com'è stato? Io a Paddy alla fine gli avrei dato un round su tre, se devo essere onesto con voi. La vittoria mi è sembrata esagerata. I giudici non so bene su che base gli abbiano dato la vittoria. Per me era un unanimous decision per Gordon. Quindi la vittoria non l'ho ben capita. Ma vi ripeto, la cosa che mi ha dato ancora più fastidio sono state le parole, prima di tutto l'intervista di Joe Rogan, dove è andato a aipare Paddy Pimble, grande prestazione, Paddy di qui e Paddy di là, e una telenovela sul biondo, e bimbe bam. No, Paddy ha fatto un incontro del cazzo, se l'ha portata a casa, prettamente per il suo nome, quindi Joe Rogan, che è una persona che stimo, non capisco da dove abbia tirato fuori quell'intervista. Ancora peggio, quello che poi è andata a dire nella post-conference, e io me la sento, io spacco i culi di qui, e Topuria di là, e Ariel Elwani che mi deve pagare per le interviste. Paddy, te mi stai simpatico, ti ripeto, però devi stare molto molto calmo, perché a prestazione di merda, b non hai ancora combattuto contro nessuno di livello in UFC. Nessuno, nessuno. C sei, non voglio dire palesemente, ma si vede che la spintarella dal Dana White è lì. Il Dana White che si fa le interviste pre-evento insieme a Paddy Pimblett per aiutarlo a smerdare per bene il suo arci nemico Ariel Elwani. Sempre il buon vecchio Dana White che, nonostante Paddy sia a livello mediatico un nome importante, continua a dare gli avversari del cazzo, ragazzi, perché lo vuole vedere vincere, secondo me. Vuole vedergli fare quelle 5-6 vittorie di fila in UFC per poi poterselo rivendere ai piani alti e dice anche se va lì a piglia le botte, quantomeno la gente si compra le pay-per-view. Questa è la mia idea. Poi allo stesso tempo vi dico che sì, Dana White privilege, sì aiutato da Dana White, sì tutto quello che volete, ma la colpa fondamentale lì è dei giudici, perché io i giudici, vi ripeto, io la vittoria l'avrei data, chiaramente a Gordon, ma non so i giudici che cazzo di incontro hanno visto, ragazzi. Un incontro che è sul filo del rasoio e va bene, e va bene sul filo del rasoio, ma soprattutto vedendo poi l'esito che hanno dato al main event tra Blahovic e il Dagestano, io ancora di più rimango scioccato della decisione che è stata presa per questo co-main event. Tra l'altro secondo me è l'incontro più brutto di tutta la main card, non mi sono divertito, non mi è piaciuto. Vi ripeto, un incontro equilibrato tra un nome potentissimo, super hypato, un fighter medio, come Gordon, un fighter medio, niente di che, un Paddy Pimbert che l'avrebbe dovuto scassare e invece, e invece, e invece, magari con altri giudici di incontro sarebbe finito in maniera totalmente differente, ragazzacci. Detto questo, vorrei fare anche una veloce, un veloce paragone tra lui e Sugar Shonomalle, che anche Sugar Shonomalle, ragazzi, è un altro che, secondo me, ce l'ha il Dana White privilegio in tasca, parliamoci chiaramente. Però, quantomeno Sugar Shonomalle, che poi uno può essere o può non essere d'accordo sul suo ultimo incontro con Peter Jan. E va bene, perché anche lì, io l'incontro lo avrei dato probabilmente a Peter Jan. Su cinque round sicuramente sarebbe andato a Peter Jan, che secondo me ha perso proprio per quel primo round nel quale non è riuscito a dare tutto. Però, al di là di questo, comunque sia, era un risultato sul filo del rasoio contro fighter fortissimo. Dal mio punto di vista, il più forte della division. E poi mi direte, e va bene, ha perso con Sterling, e ha perso con Sugar Shonomalle. Sì, ragazzi, ma come ha perso? Il primo incontro con Sterling gliel'ha proprio regalato perché è stato un coglione. Ginocchiata, con tutte e due le mani a terra, cioè anche i bambini lo sanno che non lo avrebbe dovuto fare, ma passiamo oltre. Il secondo incontro tra i due è molto molto vicino, e non lo so, anche quello sarebbe potuto andare all'una all'altro. L'incontro con Sugar Shon, vi ripeto, un altro incontro super vicino che io mi sarei sentito di dare anche dalla parte del russo, però vi ripeto, Sugar Shon si è portato a casa un incontro molto sul filo del rasoio con un fighter fortissimo, con i contro coglioni, il più forte della division, anche se non ha la cintura, dal mio punto di vista. Paddy Pimblett ha raccattato una vittoria a stento con un fighter normale, niente di che, ragazzi, Gordon che si era preparato bene, tutto quello che volete, ma vi ripeto, lo stesso incontro con un top 10, andiamo a raccogliere Paddy Pimblett col cucchiaino a bordo ottagono. Detto questo, ragazzi, giusto per ricapitolare il punto di vista della gazzetta, Paddy meritava di vincere? Io non gli avrei dato la vittoria, penso che la vittoria non sia un risultato così tanto scandaloso, come hanno detto alcuni, tanti, però comunque io la vittoria non l'avrei data a Paddy Pimblett in quel caso. Punto numero 2, Paddy Pimblett, Dana White Privilege? Sicuramente sì, sicuramente sì. Punto numero 3, ha vinto solo esclusivamente per il Dana White Privilege? Non credo, perché lì c'è proprio lo zampino dei giudici che secondo me hanno travisato l'incontro e quindi 70-80% della colpa è dei giudici e poi Paddy Pimblett che fa delle dichiarazioni stupide e inaccettabili nel post-match e un'intervista scandalosa subito dopo l'incontro da parte di Joe Rogan che forse tra tutte le cose è davvero quella che mi dà più fastidio perché Joe a parte il fatto di essere un personaggio storico della UFC sempre stato nel circuito UFC legatissimo a Dana White tutto quello che volete però almeno che non è diventato cieco per 15 minuti all'improvviso non può aver davvero pensato le cose che ha detto secondo me perché puoi anche pensare di dare la vittoria a Paddy ma dire che abbia dominato che abbia fatto questa prestazione di qua e di là bim bum bam quello non ci sta quindi questo è il mio punto di vista fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao belle